Buonasera, questi principali titoli. Si lancia da un viadotto sulla 2 tra Pizzo e Vibbo, perde la vita un trentenne. E' stato arrestato a Malta il latitante Antonio Ricci. Scoperte armi, munizioni e droga nel territorio di San Gregorio di Ippona. A Mileto i carabinieri di Vibbo hanno trovato droga nascosta nelle pareti di casa. La seconda parte sarà dedicata ai riti pasquali nel territorio. Questa e tanto altra tra poco. Buonasera e benvenuti a questa edizione del Telegiornale. Un uomo di 30 anni si è suicidato gettandosi dal viadotto sulla 2 autostrada del Mediterraneo che sovrasta la città di Pizzo. La vittima, residente a Filogaso, comune della provincia vibonese, è arrivata a bordo di un auto sul viadotto e ha inserito le 4 frecce. Scavalcato la recinzione si è lasciato cadere nel vuoto da circa 60 metri di altezza. Sul posto scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che sono riusciti ad individuare il corpo nascosto tra la folta vegetazione. Non si conoscono le motivazioni del gesto. Il viadotto, la cui recinzione era stata recentemente anche innalzata, è stato in passato teatro di altre analoghe tragedie. Drangheta, arrestato a Malta il latitante Antonio Ricci. È stato arrestato a Malta il latitante Antonio Ricci, accusato di collegamenti diretti con la Drangheta e suggetto a un maxi blitz nel 2018. Lo Ricci in particolare è coinvolto nell'inchiesta scaturita dall'operazione Galassia, a suo tempo eseguita dallo scico della Guardia di Finanza con il nucleo Polizia Economico delle Fiamme Gialle di Reggio Calabria. In quell'operazione furono arrestate 20 persone ritenute facenti parte di un sottalizio criminale di stampo mafioso, dedito all'attività illecita della raccolta abusiva di scommesse online, oltre a ulteriori gravi aspetti penali quali l'associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa. A suo tempo Ricci era riuscita a sottrarsi alla cattura, ma il paziente lavoro di indagine delle Fiamme Gialle sotto il costante coordinamento della Direzione Distrittuale Antimafia di Reggio Calabria ha fornito elementi precisi sulla sua esatta localizzazione, consentendo l'arresto da parte della Polizia Maltese in collaborazione con lo SHIP del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e con il secondo reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, sinergia internazionale che ha portato ad eseguire il mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Ricci. Una decina di lavoratori di un'azienda agricola di ricadi impegnata nella coltivazione e commercializzazione della cipolla rossa di Tropea ha inscenato una protesta pacifica lamentando l'inadeguatezza delle retribuzioni salariali e astenendosi dal lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno attivato il nucleo spettorato del lavoro dell'arma. I militari del NIL, a seguito di un controllo sulla posizione dei lavoratori, sono giunti all'individuazione di un lavoratore privo di un regolare contratto del lavoro e, impiegato in nero. Al titolare dell'azienda è stata elevata pertanto una sanzione amministrativa. Assalto in banca a Villa San Giovanni, i banditi sparano in aria. Quattro malfattori incappucciati hanno rapinato le guardie giurate che stavano consegnando denaro contante alla filiale Biper di Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. È accaduto intorno alle 8.30 all'apertura della banca. I rapinatori armati hanno esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio, immobilizzando una delle guardie giurate a cui hanno sottratto il denaro. I banditi sono fuggiti a bordo di un'auto, risultata rubata, trovata poco dopo nelle vicinanze dello svincolo autostradale. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Accede a Whatsapp e ai social dell'ex, scoperto un uomo nel Cosentino. Il divieto di avvicinamento alla persona offese è stato disposto nel Cosentino nei confronti di un uomo che, grazie alle sue capacità tecniche, accedeva abusivamente ai social network e al Whatsapp di una giovane, con la quale aveva stretto una breve relazione sentimentale poi interrotta. Lo rendono noti i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli, tracciando un bilancio dell'attività di controllo eseguita nell'ambito di Pasqua Sicura 2019, nel comprensorio del Reventino e della Presila Catanzarese, bilancio che ha portato a quattro denunce e due segnalazioni. Scoperte, armi, munizioni e droga, sequestri da 200 mila euro nel Vibonese. Durante un servizio mirato al controllo dei ruderi nel comune di San Gregorio di Ippona, l'equipaggio di una stazione è rinvenuto oltre 4 kg di ascis tra le pietre del Calvario di Zammarò, frazione di San Gregorio di Ippona. Giunti i rinforzi dalle stazioni vicine e dalla città è stato effettuato un vasto rastrellamento, al quale si è aggiunto poco dopo anche il nucleo cinofili dello squadrone e li portato cacciatori, nel corso del quale sono stati ritrovati e posti sotto sequestro 13 g di cocaina, oltre un chilo di eroina pura, due pistole non censite in banca dati, munizionamento, diversi passamontagno, oltre un chilo di marihuana. Il valore complessivo del materiale sequestrato si aggirerebbe intorno ai 200 mila euro. Mileto, droga nascosta nelle pareti di casa, un arresto. I carabinieri delle stazioni dipendenti dalla compagnia di Vibo Valencia hanno eseguito una serie di perquisizioni a Mileto nelle sue frazioni. Tra queste, una in particolare ha destato maggiore interesse nei militari, che per trovare lo stupfacente che stavano cercando hanno dapprima lasciato in largo ai colleghi del nucleo cinofili e successivamente, con l'ausilio dei militari dello squadrone li portato cacciatori Calabria, sono state squarciate alcune pareti al cui interno è stata ritrovata, suddivisa in dosi, cocaina, marihuana e la somma di 1740 euro in contanti. Il destinatario della perquisizione, GM classe 80, già noto alle forze dell'ordine, è stato immediatamente tratto in arresto e tradotto presso il proprio domicilio, dove si trova sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nicotera, un 31enne, nascondeva la marihuana tra i vestiti nel comodino. I carabinieri della stazione di Nicotera, in collaborazione con quelli della stazione di Nicotera Marina, nel corso di una predisposizione... I carabinieri della stazione di Nicotera, in collaborazione con quelli della stazione di Nicotera Marina, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio, volto alla repressione dei reati in materia di droga, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di MI, 31enne già noto alle forze dell'ordine. Infatti, nella propria abitazione, precisamente all'interno della camera da letto, abilmente occultato tra i vestiti e all'interno di un comodino, è stato rinvenuto un sacchetto in cellofan contenente complessivamente una quindicina di grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già essiccata e pronta allo smercio. Inoltre, dopo aver continuato la perquisizione, sono stati trovati invece all'interno del garage un bilancino di precisione e due trita erba. Il soggetto, pertanto, è stato tratti in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai figli di spaccio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per divrettissima presso il Tribunale di Vibo Valencia. 25 aprile, incontro del prefetto Ferrandino Ampi, consulta studentesca a Catanzaro. Si è svolta nella sala tricolore della Prefettura l'incontro dei membri della consulta provinciale studentesca con il prefetto di Catanzaro, la dottoressa Francesca Ferrandino e il rappresentante provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Vallone, in vista della celebrazione del 74esimo anniversario della liberazione. Intanto è un confronto che nasce da tempi un po' passati, nel senso che quando io sono arrivata qui a Catanzaro, ho cominciato a lavorare a Catanzaro, ho voluto fortissimamente incontrare i rappresentanti della consulta degli studenti per un confronto sui temi di attualità che riguardano il nostro territorio e tra i temi di attualità insieme abbiamo deciso che rientra proprio quello della celebrazione della festa del 25 aprile, perché? Intanto perché è una data importante, una data di appannaggio di tutto il popolo italiano perché racconta un fatto storico importante, finalmente la liberazione dalla Germania dei nazisti di Hitler e dalla dittatura che ha massacrato il nostro paese. Una giornata che non va vista sotto il profilo storico ma che va analizzata attraverso la cultura che ci aiuta a essere migliori e ad individuare i possibili antidoti che dobbiamo assolutamente porre in atto per evitare analoghe situazioni per il futuro. Quindi è un confronto importante che è stato voluto d'intesa con la consulta degli studenti che normalmente si riunisce anche qui in prefettura, è la sede dove loro sviluppano le proprie discussioni non solo quella sui 25 aprile. La storia non è roba da poco, è un modo ed è importante conoscere, avere la memoria. Un grande tranello potrebbe essere l'oblio. Non banalizziamo sull'oblio perché dimenticare quello che è accaduto significherebbe eliminare uno degli antidoti che invece dobbiamo continuare a costruire. Dalle esperienze che abbiamo noi nei vari lavori fatti nelle scuole e negli istituti catanzaresi direi di sì, anche se c'è molto da fare perché si arriva a sfiorare la seconda guerra mondiale e tutto ciò che è successo dopo. L'attività dell'AMPI nelle scuole serve proprio a questa, a sollecitare un risveglio delle coscienze da parte di questi ragazzi e anche dei docenti sull'importanza di fare memoria ma di fare anche storia perché solo la memoria che si riduce a semplice ricordo dei fatti senza approfondimento non crea grande consapevolezza. E allora occasioni anche come quella di oggi serviranno per sentire il lavoro che hanno fatto in occasione di questa giornata e rendersi conto su che cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo modificare, ma in ogni caso c'è grande attenzione verso il lavoro che stanno facendo. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco. Bentornati in studio, ora ci occupiamo dei riti pasquali, andiamo a Montepaone. La Passione di Cristo rappresentata a Montepaone Lido per iniziativa della locale parrocchia diretta da Don Bernardo e grazie al fattivo contributo dell'associazione La Porta del Domani ha riscosso un notevole successo. Teleionio, sensibile agli eventi di qualità, era presente e ha seguito per i telespettatori l'evento. Sentiamo le interviste di Fabio Guarna. Don Bernardo, cominciamo. È un evento importante che però raccoglie un po' quello che è l'attività di questa parrocchia che si presenta sempre con tante iniziative. Questa oggi ha riscosso successo di pubblico ma anche dal punto di vista spirituale. Bisogna sempre portare avanti queste iniziative. Da qualunque parte vengono. Stasera abbiamo mobilitato la costa ionica. Peccato che i sovraestesi sono rimasti assovrati per passaggiare sul lungomare. perché la loro passione che hanno fatto era forse migliore. Ringrazio qua l'artista. E lui è regista di tante cose. Speriamo che fai una bella pigliata stasera. Sono contento davvero, capito? E sono contento perché lui è venuto a riprendere questa scenografia. Ti posso solo offrire una pizza. Va bene, invece sentiamo un po' nell'organizzazione. Entriamo dentro. Allora, Pino Agulà, la scenografia. Come è stata preparata? Quanto tempo ci è voluto? Che sforzo c'è stato? E quanta collaborazione c'è stata? Beh, diciamo che c'è stata la collaborazione di quasi tutti gli amici che fanno parte dell'associazione. Diciamo che è stato un lavoro di quasi tre mesi. Abbiamo lavorato in un capannone. Meno male che avevamo questo posto dove poter lavorare. Perché il tempo è stato un pochettino, ci ha messo un po' del suo. Quindi abbiamo dovuto lavorare in un certo modo gli ultimi giorni. C'è stato un problema, però ecco, abbiamo risolto un po' tutto. Perché siamo riusciti nel tempo a realizzare questa bellissima scenografia. e spero che sia andato tutto bene, perché è chiaro che alla fine quello che conta è la bellezza che noi mostriamo. Soprattutto quando facciamo queste manifestazioni. E qui ne approfitto. L'impegno del presepe, ormai lo sappiamo, Pino Agulà bravissimo, conosciutissimo. Ecco, possiamo prenderlo anche come un impegno questo per Pasqua? Ma questa è, diciamo che è la terza volta che noi facciamo la Passione. Non è la prima volta, l'abbiamo fatto cinque anni fa. È chiaro che per fare un lavoro del genere ci vuole tempo e ci vogliono gli spazi proprio per creare questo tipo di scenografia. È chiaro che quest'anno, di quello che abbiamo fatto, rimarrà per i prossimi anni e penso che magari il prossimo anno, con il tempo che magari sarà minore rispetto a quest'anno, perché diciamo che quest'anno è caduto tardi la Pasqua, quindi abbiamo avuto più tempo per lavorare. Però è chiaro che noi abbiamo già una scenografia pronta, quindi il prossimo anno potremo lavorare di meno e impegnarci di più a realizzare poi il palco e quant'altro che dobbiamo fare. Senta, passo alla regia. Quanto è difficile o quanto è facile lavorare in queste condizioni, perché c'è poco tempo, però c'è tanta voglia. Non è stato tanto difficile perché gli attori, oltre ad essere attori quelli che hanno recitato nel senso buono della parola, non si tiravano indietro a prendere il martello, non si tiravano indietro a prendere una stoffa, a decorare, a mettere qualcosa, quindi hanno collaborato tutti quanti, dal più piccolo che è salito sul palco alla fine, al più grande, tutti quanti, quindi lavorare con questa gente che ti dà davvero l'input per andare avanti è una cosa facile, anche il lavoro più difficile lo rendono facile. Don Bernardo l'ha presa sempre così, insomma parlando di basso Ione che arriva, di soveratesi che mancano, in realtà i soveratesi ci sono, ci sono e quindi è un'iniziativa che naturalmente parla non soltanto a Montepone, ma parla al territorio insieme a tante altre. Ecco, quanto è importante partire da qui per dare un segnale a tutto il territorio che tante volte soffre di iniziative che manca? Fondamentalmente diciamo che la nostra premura come associazione, come Porto del Domani è quello proprio di dare il messaggio più forte nella realtà, nella cittadina in cui andiamo ad operare. Lo scopo non è quello della manifestazione insieme, ma quello di radunare un gruppo di persone, di ragazzi, di giovani dietro delle iniziative che quindi portano condivisione, portano delle serate insieme, portano delle attività formative, come diceva Pino, come diceva Rino, chiaramente ci hanno visti insieme non solo nella parte recitativa, ma comunque nei momenti di convivialità, per così dire, e nella realizzazione di quello che rappresenta tutto. Noi ovviamente come associazione siamo nati come un'associazione giovane, poi ci siamo nel tempo ci siamo contornati di persone adulte, proprio perché la volontà è quella di fondere le due cose, vedere una famiglia che va avanti, e lo spirito è proprio questo, e credo che si sia visto. C'è anche difficoltà, siamo realisti nel creare questi momenti aggregativi, però la risposta e i risultati che si hanno avuto già con quest'altra manifestazione è importante. E noi ci auguriamo che nel nostro piccolo questo possa essere un esempio per tutto il territorio che magari ha modo di vederci. Siamo un'associazione, non una proloco, quindi questo è anche un tassello importante nel creare poi magari la rete, nelle diverse occasioni che si possono creare in un territorio. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è quello di andare avanti così, di creare e di riproporre nuove iniziative, sempre nella logica della condivisione, dello stare insieme, e poi ovviamente nell'infondere un messaggio ai ragazzi che appunto appartengono. Ecco oggi Tele Ionio c'era, quanto sono importanti i mezzi di comunicazione per valorizzare iniziative come queste che hanno raccolto consenso di pubblico? Queste sono tantissime, sono quelle perle, questi aspetti che fanno sì che tutto possa essere inserito in una logica di crescita. Io ringrazio veramente per la presenza Tele Ionio e qui rappresentato tra l'altro da Fabio Guarna, gentilissimo, che è sempre vicino a noi, questo c'è da dirlo, ed è attivo nella nostra parrocchia. Più da Saro, che è stato tutto, tu per tu un'ora intera, all'impiedi. Non avevo il dubbio su Saro, cos'era il nome, però ringrazio appunto per la disponibilità, per la collaborazione e ripeto, è molto importante perché si fa eco nelle belle cose, è giusto che si faccia eco anche per le iniziative sane e non solo per quelli che sono gli aspetti a volte negativi dei nostri contesti. Quindi grazie, grazie mille per aver reso possibile che questa piccola iniziativa possa diventare diciamo un esempio in questo, in tutti i territori. Con una pizza piccante per Don Bernardo? La pizza piccante per Don Bernardo, poi abbiamo vinto lo scudetto, quindi insomma, diciamo anche questo fa la differenza. Va bene. Ed ora, a confrunta, a Chiaravalle Centrale. Si rinnova, Pasqua è il secolare rito della confrunta, a Chiaravalle Centrale, un evento molto sentito che ogni anno richiama migliaia di persone anche dal circondario. La mattina di Pasqua a mezzogiorno circa, San Giovanni inizia a fare la spola tra Cristo risolto e la Madonna per dare la bella notizia. È questione di attimi quando da un capo all'altro di Piazza Dante inizia la corsa delle statue in mezzo ai tanti fedeli. A un'estremità la Madonna vestita a lutto insieme alla Maddalena, all'altra Cristo risorto e San Giovanni. Al momento dell'incontro delle statue viene tolto il velo del lutto alla Madonna e parte così un applauso fragoroso tra la commozione generale. Sentiamo il parroco Don Roberto Celia. Tutto parte da un incontro. Quello come già dicevo prima durante la messa, se prima non c'è un incontro con Cristo non può nascere un cammino. Come Cristo ha incontrato la Madonna e viceversa la confrunta appunto a questo significato, da lì nasce quella scintilla che porta quel fuoco nuovo. Noi abbiamo una tradizione dietro che è veramente una base. Quindi abbiamo quel senso di appartenenza alla comunità, alla nostra fede, quindi alla nostra famiglia. Ma è importante ogni giorno di più rinnovare. Altrimenti come diceva il Papa in un'altra occasione che riportava un pensiero di Maier diceva si rischia di adorare le ceneri invece di alimentare il fuoco. Perfetto allora quindi diamo tanti auguri a lei, alla sua missione e poi ai caravallesi anche. Giustamente a tutti quelli che ci seguono in modo particolare quelli che non possono partecipare a tutte le funzioni agli emigranti e anche vogliamo l'occasione per gli immigrati per coloro che appunto adesso iniziano a far parte della nostra comunità perché questa sia un'occasione di dialogo, di incontro e di crescita insieme. Subito dopo il telegiornale andrò in onda uno speciale sull'evento ed ora ci spostiamo a Santa Caterina. Un rito che per definizione si ripete nel tempo nello stesso modo e nello stesso luogo un rito che però genera sempre un'emozione nuova fortissima in chi vi assiste credente o laico che sia giovane o vecchio uomo o donna il fascino dell'affrontata non lascia impassibile nessuno. A Santa Caterina l'incontro del Cristo risorto con la Madonna grazie all'intercessione di San Giovanni è andato in scena anche in questa giornata di Pasqua 2019 un evento che catalizza l'attenzione dell'intera città e continua a suscitare commozioni in chiunque. L'arciconfraternita impeccabile anche in questa occasione offre al popolo una rappresentazione all'altezza della sua fama. A parlare sono le immagini che vi proponiamo degli attimi più attesi quando Maria viene svelata dal manto nero del lutto ed abbraccia Gesù insieme a San Giovanni. Sentiamo Don Saverio Mattei parroco di Santa Caterina Marina. Sì è un momento di gioia e di aggregazione anche se non ha un addentellato teologico e storico perché è un qualcosa di popolare che risale un pochino ai tempi che furono però il popolo partecipa si commuove prega pure poi alla fine parecchi partecipano pure all'Eucarestia quindi in complesso è positivo la cosa. Un bilancio sicuramente positivo per queste feste e Pasquale qui a Santa Caterina Sì sono state partecipate il trido Pasquale è stato partecipato abbastanza sia la Quaresima in modo particolare dal giovedì santo venerdì sabato notte e anche oggi. E dopo lo speciale di Chiaravalle anche su Santa Caterina andremo non d'un approfondimento Ed ora Staletti Si è svolta nella comunità di Staletti la tradizionale confrunta presso il piano di San Gregorio con un mare di gente accorse dai paesi limitrofi il tutto guidato dall'arciprete Don Roberto Corapi e dai suoi giovani insieme ai gruppi parrocchiali prima la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Don Roberto nella chiesa matrice nel quale durante l'omelia si è rivolto a tutti con parole di speranza invitandoli ad aprire le porte del cuore a Gesù risorto che è la luce e pace presente il sindaco Alfonso Mercurio e l'intera amministrazione comunale sempre vicini al lavoro di questo giovane sacerdote che è riuscito a riprendere le tradizioni della comunità presente anche un pullman giunto da Palermo per l'occasione sette i viaggi di San Giovanni e della Beata Vergine addolorata che vanno in cerca del Signore Gesù tra canti e lacrime all'incontro col Signore l'abito nero di Maria viene svelato subito il suo abito di festa e il volto di tutti acceso di gioia e di amore per Gesù risorto i presenti all'incontro baciano a terra e il cielo si colora con fuochi e lacrime si ringrazia Dio per la confrunta un incontro di gioia che segna il cuore di tutti nel giorno della risurrezione tra riti e tradizioni ed ora andiamo a Davoli Borgo per la tradizionale confrunta il servizio di Lorena Pallotta riti e tradizioni in Calabria a Davoli Superiore abbiamo assistito alla confrunta cioè la rappresentazione dell'incontro tra Maria e Gesù dopo la resurrezione preceduta dalla sfilata in corsa degli stendardi ad apparire per prima è la Vergine addolorata vestita al lutto e ancora inconsapevole della resurrezione del figlio non riconosce subito Gesù ma appena comprende del miracolo avvenuto la Madonna si spoglia del lutto e appare in tutta la sua luminosa gioia gioia alla quale commossi partecipano con un lungo applauso i tantissimi fedeli presenti alla fine del rito tutti in processione dietro a Maria Cristo Risorto guidati da Don Nicola Coppoletta fino ad arrivare in chiesa per partecipare alla Santa Messa questa era l'ultima notizia grazie per averci seguito e buona serata grazie per averci seguito